la prendo dolce e non so in che stato è non so in che stato Grazie a tutti. E' un po' scavata là. Qua a sinistra! Qua a sinistra! Oh sì! Adesso non è ancora periodo gara. Qua! Qua! Terminiamoci qua. Questa la facevamo in salita, che era bella dura dura. Che arrivavi qua in gara dopo la vipera in discesa, questa in salita era un'agonia. La vipera arrivavamo qua, dalla destra. Poi un anno l'abbiamo fatta anche girando qua. Qua! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.